e ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video oggi siamo qui vi faccio vedere questo nuovo unboxing di questo film che mi è appena arrivato e sto parlando dei film sonori di lauler e arti ovvero staglio e olio in questo dvd ci sono tre film ovvero i fanciulli della risata 3 allegri gemelli i fanciulli del west questa è la copertina di due grandissimi dei comici della risata staglio e olio qui abbiamo il laterale qui abbiamo il retro allegri gemelli e i fanciulli del west qui abbiamo un po' di trama alcune informazioni sui vari film che ci sono durate 61 minuti bianco e nero caratteristiche standard e questo ragazzi è il retro adesso e andiamo ad aprire il dvd eccolo qua qui tutto nero e qua staglio olio 3 molto classico e niente mettete mi piace commentare e iscrivetevi al canale e noi come sempre ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti belli ciao a tutti